Si chiama Le Cadu, la nuovissima caldaia che Irene Luce Casse e Servizi inizierà a commercializzare sul territorio ligure. E' il frutto di una nuova e importante partnership con Bon Giovanni, l'azienda di Cuneo produttrice di caldaie che vanta 100 anni di attività nel settore del riscaldamento. E' la caldaia che abbiamo pensato con un grande partner, il gruppo Bon Giovanni, per tutti i nostri clienti di Genova e della Liguria, per poter riscaldare le loro case con grandissima efficienza, che vuol dire caldaia a condensazione che dà risparmio sul consumo in bolletta, con un prodotto 100% italiano di un'azienda che ha 100 anni di storia. E' una caldaia a condensazione di ultima generazione che garantisce dei risparmi energetici fino al 30%, è una caldaia attenta alle esigenze non soltanto dell'installatore, ma soprattutto dell'utente finale, partendo dall'estetica alle dimensioni stesse della caldaia. Può essere messa in un armadietto, quindi comodamente nascosta, è una caldaia estremamente silenziosa ed è una caldaia estremamente affidabile. La proposta commerciale di IREN è competitiva, con un'offerta di lancio in vigore fino al mese di luglio 2018, che prevede l'installazione chiave in mano a partire da 1650 euro. IREN si occuperà di effettuare il sopraluogo tecnico, l'installazione e seguire le pratiche per le detrazioni fiscali fino al 65%. In modo tale da coccolare, come al solito, i nostri clienti e portargli un beneficio tangibile nelle loro case, sul loro conto della bolletta, per l'ambiente e poter proseguire in questo nuovo cammino di IREN, luce, gas e servizi.